... Carissimi fratelli e sorelle, supplichiamo in mente Dio, Padre di misericordia, per il Papa Emerito Benedetto, che si è addormentato nel Signore. Chi è lei, chi so? Perché accetti le sue buone opere e la dimora della pace e della luce. Chi è lei, chi so? Chi è lei, chi so? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.